Allora, Pensieri in punta di piedi, un primo spettacolo dell'Accademia che debutta lunedì prossimo al Teatro Politeatro. Sì, apriamo la stagione quest'anno con uno spettacolo che prende un po' tutte le attività che noi svolgiamo nella scuola. Chiaramente fatta dalla creme della scuola, quindi il corpo di ballo, la compagnia del teatro, le cantanti, l'insegnante. E ci sarò anch'io dentro a interpretare. Che spettacolo è? Come lo hai pensato come primo debutto? È uno spettacolo non comico, ovviamente, è un teatro danza. Ci sarà proprio un mix tra tutte le nostre arti, tra il canto che accompagneranno le poesie o la danza che circonderà la poesia, parole, pensieri, insomma, un po' di cose. È uno spettacolo molto fluido perché non durerà tantissimo, un'ora, un'ora e un quarto massimo di spettacolo, quindi iniziamo alle nove, finiremo sicuramente alle dici e mezza su tutti i fuori, anche perché è lunedì sera, i ragazzi devono andare a scuola. Insomma, quindi abbiamo pensato un po' a tutto. Allora, chi vuol venire a questo spettacolo, dove trova i biglietti e insomma, dacci qualche info. Allora, per chi volesse venire vi invito caldamente, venite, venite, venite a vederci perché non vi deluderemo. Potete trovare i biglietti presso la nostra sede, nell'Accademia dello Spettacolo in via della Liscia 9, oppure telefonare allo 0721 19 20 629 e potete tranquillamente anche prenotarlo e poi prenderlo subito prima della serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS